Dopo una decina d'anni in affitto nello stabile di via Vitruvio di proprietà della Diocesi, gli uffici comunali dislocati nei tre piani della palazzina in questi giorni stanno traslocando. Andranno ad occupare due edifici di proprietà del comune di Fano ristrutturati e resi operativi per accogliere il personale e i relativi uffici, diminuendo quindi i fitti passivi dell'amministrazione comunale. Continua con successo quindi l'operazione di riorganizzazione e razionalizzazione della macchina comunale iniziata con i servizi sociali che hanno lasciato i faticenti ambienti di via Garibaldi per essere raggruppati nei moderni locali a Sant'Orso. In questi giorni da via Vitruvio la polizia amministrativa e l'ufficio commercio si stanno ambientando a Palazzo Nolfi, l'ex sede del tribunale di Fano, in via Arco d'Augusto, mentre ufficio ambiente e servizi educativi stanno arrivando con tanto di assessore, è proprio il caso di dire scatoloni in mano, nei locali dell'ex caserma dei Carabinieri di fronte al Bastione Sangallo. Sì, è un trasloco complesso perché ovviamente i servizi educativi insieme all'ecologia urbana e all'ambiente sono uffici importanti, tra l'altro anche con un'interfaccia con l'utenza molto importante. Il trasloco è iniziato ieri, continuerà ancora per alcuni giorni, ma pensiamo di riuscire entro la settimana a completarlo e ad essere a regime per l'inizio della prossima settimana. Quindi approfitto anche dell'occasione per tranquillizzare le famiglie interessate che da martedì 16, quando inizieranno le iscrizioni ai servizi di scuola dell'infanzia, le sezioni ponte, gli uffici saranno regolarmente aperti e funzionali. Questo non solo per garantire ovviamente le famiglie che saranno eventualmente interessate delle iscrizioni, ma tutta l'utenza che quotidianamente di solito si rivolge ai nostri uffici. Chiediamo di avere adesso un po' di pazienza per pochi giorni, perché chiaramente il trasloco è molto complesso, non solo la mobilia, ma anche tutti i materiali, la documentazione, in particolare dei servizi educativi, ma per l'appunto siamo a buon punto e speriamo tra pochissimi giorni di essere pienamente operativi nuovamente qui nella nuova sede dell'ex caserma dei Carabinieri in piazzale della stazione 7.